benvenuti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video di futura gamer quest'oggi siamo qui a registrare quest'oggi siamo qui a registrare never ending ma questo gioco abbiamo di lcd barbie deficiente è un nuovo gioco che abbiamo messo appunto sul web e che l'ho messo dietro così ma l'empreso sotto sotto costo dai finita allora dicevo siamo sempre never ending e l'abbiamo fatto partire giusto una volta per vedere se funzionava se andava bene però adesso siamo qui con voi e quindi ricominciamo da capo e via col game maroni che sa faccio c'è stato mi avevamo già visto quindi io vado i tasti penso siano qua no guarda guarda la mano come poi sale piano male guarda vabbè vabbè ho già detto vabbè non c'è niente in armadio credo no abbiamo si intelligente sia una persona per bene per la miseria sono dette con peccato certo mentre la cioca e noi siamo arrivati fine alla fine del corridoio e poi l'abbiamo chiuso quindi ste porti per noi sono sconosciute sconosciute allora io penso che la prima volta da aprire non sarà mai la prima ma perché non apri quella e che non è mai la prima volta da aprire troppo easy credi vi ragionano come i giochi guarda che carina quella che stavamo scusate la nina ma se muove l'ansia 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 questa mamma mia signore questo sembro io questa ragazzina che c'era l'intro questo sembri questo sei di soli c'è semononi il giorno è che così chiusa ne dovrebbe essere c'è stata una sorella metti caso di quelle è una famiglia e il loro bisogno si è certo se fanno la francese così vabbè lei va la testa a mettere l'ansia ma non faccia questo ma che cazzo hai fatto c'è paura c'è paura questo l'occhio ti fa sentito anche i pali a prestati anzio di porta lo chiamerò scampani oh ma non importa se chiudere una volta l'ansia lo chiamo scampano c'ho la cuffia nelle palle c'ho la cuffia nelle palle c'ho la cuffia nelle palle un sommelier un sommelier un sommelier un sommelier un sommelier un pochino un pochino divino madonna sembra cosa lei va lei co di pu 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 apri ma che apri devi apri sempre l'ultima è tutto un gioco di parole ma hai sentito chi una ragazzina ride ah tu nel gioco no aspetta non è sì manco io chiesto il numero oh uno struzzo è uno struzzo che ha messo per me struzzo i jeans andiamo a nascondere non mi troverai mai è uscita quella porta è uscita questo corpo c'era per legge la lettera eh leggi la lettera non te la fa leggere scusa adesso è fuoco non finiscono più ma le fiamme guarda le fiamme ma pure a me che guarda le fiamme ma guarda le fiamme guarda le fiamme chi parla il padre che oh poi la figlia dai esci da questa porta ma che cos'era un corde lo scienico questo invece le fiamme va bene bastante se chiamano in merda non è finibile ma perché stai mezz'ora di pittani esce bar è un ratto sembrano capelli rossi era un serpente ma c'è te ma c'è te ma c'è te che fai non mi capisci le fiamme ancora costa e fiamme tavolari seguiti dalle fiamme attenzione siamo usciti fuori mamma mia che no se è troppo se guarda è sexissimo che sexaggine so sexy bitch i'm sexy i'm cogo sette dove sono giltrude dove mi trovo tutto tutto guarda 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 si muove prendimi stronzo no te se vede te se vede no dai ma guarda che penso che puoi anche correre mi stai venendo e che si l'avevo visto ma non c'ho è questo no? come cazzo la lapide l'ha fatta kevin a smith come cazzo la lapide l'ha fatta kevin a smith che è fischio? che è ricalata? sono stupido piatti fiori va andiamo per nome capi ma è una sorella oeeh sta ancora dormendo? no questo sta a vedere come lo sapevo a fa tanto no mi sto sognando che sei morta ma sei scoinvolto 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 sconvolto sconvolto ma proprio scazzi ahahah mi sto sognando di prendere la tua piccola sista mi sto sognando che siamo figli è ancora vero, non è? sì ma perché non provi a tornare a dormire? vedrò fuori ma che c'è? io gli dormi quanto mi pare a me ma che c'ha? la papà dice la papà dice la papà vabbè scusa da quello ho capito devo uscire devo uscire sti due no ma se so fratele e sorella no devono uscire sti due accompagnate da qualche parte dormi ti aspetterò fuori che cazzo mi aspetta a farci? no no vedi guarda che non c'ho più sceglie non c'ho più sceglie mi aspetta mi aspetta la prima volta no non ci sei andata e no perché c'è stava lei se vuoi lei non è che ci sono queste fiamme che fanno così perché sennò se il biotraco compie tanto quando avete paura guardate le fiamme quando avete paura? ecco vedo quando vedete paura oh guarda che bella quella miniatura lì di quell'uomo alto nero è il Slenderman è il Slenderman alto nero oh che scade? dove scende giudo? ok perchè non volesse? no risali no eh no risali mi sto fai da sotto no risali no risali no risali e risali non gli occhi ma io lo avrò papà lo sentino no no dai sali e ormai nooo stava tornandietro un moscopente qua non si sta fuori aspettaccia ecco siamo morti chi vuol di questo? siamo rinati è Inception sono spawnati è Inception cioè ma vicino alla Pia Bartoli torna anch'io e l'ape perché sei stupido non è possibile non si può fare così eh che ansia sui gioco poi questo ma perché non corri? mi scordi mi voglio mamma mia guarda è bella qua il ragazzino occhio che non muore oh guarda lì oh è lui ma è lui o lei? è lui ma è il matto cosa andrà qua? per forza perché quella è sbarrata mmm un luogo di culto religioso mamma quanto è brutta quella ma perché non entri? perché non moro? non ti piace le porte vabbè a capirà oh 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 oddio e bambole Anna bella quella Anna bella mamma mia oh 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 ero mi oh mi oh però sono ero Io Non meglio il corrimmo qua, perché porca doia Ogni piazza c'è un quadro Lo fai stirare Ma perché? Impara a fare qualcosa Ma come corri? Che c'ha a mano? Guarda le dita Best Ha morto È venuto Da andare bagno Oh, mazza che anzi A sto posto Oh Candela, attenzione l'unica cosa a colori Qui dentro, a parte le cornici Dei quadrigiandi Oh, ti leva il copo Puoi scendere in scale Ti leva Ti leva l'ombra Anzi, ti ha la misa Aia Yes, sir Yes, sir Scusa, ma Niente Le scale Ma dove stavamo? Ma dove stavamo? Tu stavamo nelle finestre No Cammino Oh Oh C'è E' un cavolo Ho premuto il cittere Ma perché? E' un cavolo E' un cavolo E' un cavolo Mi sono tagliato i baffi Cammina Corri E' un cavolo E' un cavolo Madonna Madonna E' un cavolo E' un cavolo E' un cavolo C'ho la pelle d'oca C'ho la pelle d'oco No! No, 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 no! Stacci tua! Mi sto sentimale, per favore, dai! No, no! Parlavi te! No! Ah! Nencio! Cammina, fa il favore! Ma tu parli quando... Ma mo' sta mo' calma, perché questo è quel quadro c'era pure prima ho visto io nessuna ansia ma ragazzi è a mezza dove stanno le scale non mi ricordo perché sei entrato esci no mi mettono queste bambole eh giocati esci ah esci c'è il cavallo d'ondolo salice così magari che è più veloce piangente dai esci da questa porta perché ti fa caga sotto che sarà che il lavandino pulito aspettami un po' di sangue aspettami senza oh vabbè scusate mica mi chiamo esci auditore ma non ho altri cazzo di muder muder io lo leggo dai tetti teddy oh ma dov'hai eh ci dà sta no eh ci dà sta stava parkour al muro dai ma vedi sulle scale che c'è dai scale dove stanno cazzo di là stavano sicuro ma se noi siamo in tre di qua prima che c'è la bambola qui eccola qua guarda te oh finiscila mamma mia è morto sto ragazzo guarda vedi che non arrivo all'angolo mamma mia mamma mia fratello ti seguo la morte cazzo fai mazza che corridoi lunghi ecco le scale dovevo dire che stavano qua per forza ti manda qua perché si però devi essere veloce guarda pure la fiamma però guarda il moderno e il vecchio guarda che stia la stanza no io mi ce l'ho paura che cosa c'è lì a terra ma basta che stai calmo perché oh a me lo dici oh prendi la città accetta 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 la città c'è mamma che flemma ma che devi fare no 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 che cazzo fai tu sei matto lele non c'è stata prima la città accetta no che dio che cosa ha fatto madonna madonna ma sarà per te immagini da là entra uno così qua città stavo registra qua madonna ha preso ma vedi che si no 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 dai vattene non puoi io guardo io guardo le fiamme adesso sta a morire adesso sta a morire ma ci ho messo che cazzo soffitto soffitto mamma mia che brutto soffitto oddio mio oddio no da da allora con calma ci siamo la situazione vado a ammazzare che devo fare non lo so c'è morta penso che si ma questa è nata guarda i piedi così c'è i piedi porta un tre meno menti dei piedi dai no 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 damo se giro di foto che cazzo ha fatta la camera questo questo onambulo c'è pure i ragni mi hanno portato l'ascia vabbè siamo quindi qua l'episodio dici sì dai torca troia dai mi lascia no mi tocca gli occhi penso a mezziggio va bene ragazzi allora questa puntata può finire qui allora diciamo che stavano lì bello a tutti ragazzi benvenuti ah no continuerà questa serie sicuramente e continuiamo noi a essere non avrà fine never ending continuiamo noi a essere più presenti sul canale e che dire ci vediamo al prossimo video lasciate un commento e un mi piace all'ultimo video ci vediamo anche sul facebook vostra zia vostra zia con il cuore con il cuore ciao bella regà ciao ciao Grazie.